Adesso andiamo a fare le proprietà caratteristiche del massimo limite e del minimo limite. Allora queste proprietà le facciamo nel caso in cui il massimo limite della nostra successione sia un numero reale. Quindi la nostra proposizione, il teorema è chiamata come vi pare, il massimo limite di a con n è uguale a lambda numero reale se solo se. Quindi questa non è una definizione, questo è, dobbiamo dimostrarlo, va con queste due proprietà. Prima proprietà, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un n patenente a n, tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n è minore di lambda grande più epsilon, vi ricordo che tutta questa locuzione si indica con la parola italiana definitivamente, per ogni epsilon la successione è definitivamente minore di lambda grande più epsilon. l'altra è che per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni n appartenente a n, esiste n maggiore o uguale di n, tale che a con n sia maggiore di lambda grande più meno epsilon. questa locuzione si può abbreviare con la parola italiana frequentemente. frequentemente non significa altro che il peso infinitivo. Attenzione, riflettete, prima bisogna capire quello che sta scritto, poi bisogna dimostrare che queste due proprietà equivalgono a queste due proprietà, ma questo viene dopo, se non capiamo quello che sta scritto non possiamo dimostrare un bel nulla. Qua c'è scritto per ogni epsilon io fisso un epsilon, poi fisso un n, trovo un n più grande di n, tale che a con n è maggiore di lambda grande. Quando vado a fare una richiesta, una richiesta come questa, è più stringente se la richiesta la faccio definitivamente perché definitivamente significa che da un certo punto in poi, da n in poi, questa disuguaglianza deve valere sempre. Qua no, qua da n in poi trovo qualche indice per cui la disuguaglianza vale ma non sempre. Se una certa disuguaglianza è vera definitivamente, è vera anche frequentemente. Questa disuguaglianza di sopra è vera definitivamente e quindi anche frequentemente. Questa disuguaglianza di sopra è vera frequentemente ma non lo so se vale definitivamente. Qui si vede benissimo la parentela con il limite perché quando una successione aveva limite, l, che succedeva che tutte e due queste disuguaglianze dovevano valere, se vi ricordate, definitivamente. Per ogni ex esisteva un n, tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n era maggiore di l più ex, migliore di l più ex, ma anche maggiore di l meno ex, cioè le due disuguaglianze le volevo tutte e due definitivamente. Qua invece una la voglio ancora definitivamente e l'altra la voglio soltanto frequente. Perché si dice frequentemente? Perché ogni tanto la successione deve essere maggiore di l'amoda grande meno ex. Io fisso il n, dopo il n trovo un indice, diciamo che tra le meno ex e le più ex, al lambda ci sta Cassino. Allora dico, io definitivamente non vado più al di là di Cassino, cioè a Cassino è più ex, ho fatto una forma e non vado mai oltre. Però potrei andare a Cassino, potrei andare a una città più vicina di Cassino. Qua c'è scritto che ogni tanto, per ogni n, esiste un n maggiore di n, tale che a con n è maggiore di lambda meno ex. Cioè, sono arrivato, ho percorso quasi tutta la distanza che mi separa Cassino a meno, lambda grande meno ex. Anche qui è una metafora. Io potrei andare, che ne so, un giorno vado a San Giorgio, un giorno vado a Spigno, un giorno vado a Cassino, però ogni tanto vado a Cassino. Ok? Quindi, vabbè, atteniamoci agli esempi numerici. Se lambda grande è 3, da un certo punto in poi, da n in poi, la successione è sempre meno di 3 più ex, ogni tanto la successione è maggiore di 3 meno ex, però potrebbe anche essere, a volte 2, a volte, mettiamo che è ex 0.1, a volte la successione sarà 1, a volte meno 1, a volte 3, ma ogni tanto deve essere maggiore di 2.99. se è ex 0.1, a volte 2.99, se è ex 0.1, 3 meno 0.1, a volte 2.99. E quante volte? Infinite volte, perché? Allora, supponiamo, qua ci sta lambda, qua ci sta lambda più epsilon, quante volte la successione deve finire qua dentro? Allora, io ho fissato epsilon, ho fissato epsilon, ho fisso un ni, prendo anche un ni, so che sta a sinistra di lambda grande più o meno, però non so se sta a destra di lambda grande meno epsilon, però io prendo un ni, lo metto qua sotto, ci sarà un indice a n1, a n1 acqua dentro, perché? n1 è maggiore di ni, che mi soddisfa qui, quest'altra viene soddisfatta automaticamente perché n1 è maggiore o uguale di ni, quindi n1 afficola. poi cosa faccio? Prendo un ni, n1 maggiore o uguale di ni, tale che a n1 è maggiore di lambda meno epsilon, a n1 automaticamente è minore di lambda grande. adesso prendo un altro ni, prendo un ni uguale n1 cambio ni, cambio n2 uguale n1 più 1, lo vado a mettere al posto di ni, se n è maggiore o uguale di n2, a con n è minore di n più epsilon? ma allora, scusate cambio il ni, il ni è aumentato quindi questo qua è ancora vero, ma adesso ci sarà un n2 più grande di ni, perché lo devo chiamare n2? perché se è più grande di questo non vuole essere n1 con il ni, sarà tale che a n2 sarà maggiore di lambda grande meno epsilon, quindi a n2 sarà pure lui qua dentro, e così via, cambio il ni, prendo un ni uguale n2 più, a momento un ni, questa inseguaglianza era vera definitivamente e continua ad essere vera, era vera da ni in poi e vera anche da n1 più 1 in poi, vera anche da n2 più 1 in poi e vera anche da n3 più 1 in poi, però ogni volta che cambio l'indice e mi porto 1 oltre l'indice che avevo trovato prima, quando vado a trovare questo nuovo indice qua, più grande di ni, ne dovrò trovare un altro diverso, se prima avevo trovato n1 adesso devo trovare n2 che essendo maggiore o uguale di ni deve essere maggiore stretto di n1, quindi trovo un n2 poi troverò un n3 poi troverò un n4 poi troverò un n5, in poche parole quanti elementi della successione sono in grado di trovare l'anda grande meno epsi e l'anda grande più epsi? infiniti, quindi quando dico frequentemente, allora questa vale definitivamente per tutti gli elementi che hanno l'indice più grande di n1, questa vale frequentemente ma frequentemente vuol dire esattamente per infiniti, è equivalente a dire che valga per infiniti indici, quel ragionamento ti dice che vale per infiniti indici, perché se vale per infiniti indici vale anche frequentemente? beh se vale per infiniti indici 1 più grande di 10 sarà no? se valesse solo fino a n1 sarebbe per un numero finito, quindi dire che una cosa vale definitivamente significa da un certo punto in poi, dire che una cosa vale frequentemente significa per infiniti p, allora indiciamo i giorni, giorno 1 è oggi, giorno 2 è domani e così contiamo i giorni da qua fino all'inprima, allora io diciamo un giorno si e un giorno no vengo a cassino, vengo a cassino definitivamente? no, no perché non è vero che vengo sempre a cassino tutti i giorni, o da un certo punto in poi ci vengo sempre, no, un giorno si e un giorno no, ci vengo frequentemente? sì, che qualunque sia l'indice che volete prendere, o il giorno con quell'indice vengo a cassino, quindi la settimana ci vengo frequentemente, ogni tanto, se gli indici sono infiniti però per infinite volte, se le settimane sono infinite, ogni volta avendo 3 volte della settimane, qui ci vengo infinite volte, qual è il contrario di definitivamente? ovviamente, provate a negare questo, esiste un n, tale che per ogni n, esiste un n maggiore o uguale di n, tale che per ogni n, è maggiore o uguale di n, allora, il contrario di definitivamente, vuol dire, definitivamente vuol dire, da un certo punto in poi faccio sempre quella cosa, quella disuguaglianza è vera, il contrario vuol dire frequentemente vera il contrario, se ci fate caso, se andate a negare questa, scoprite che frequentemente sarà vera il contrario, se io dico, è compatibile dire, io definitivamente vengo a cassino, e frequentemente me ne vado dall'altra parte? allora, io definitivamente penso a te, basta, ho lasciato tutti i regali, penso solo a te, sempre a te, e dice, ma qua frequentemente io trovo un telefonino, che ci stanno altre cose, è chiaro? qual è il contrario di definitivamente? quindi se io voglio dire che una cosa non vale frequentemente, se non vale frequentemente varrà per un numero finito di indici, ma se vale per un numero finito di indici, dal più grande di quell'indice in poi, varrà il contrario, quindi se io voglio dire che una cosa non vale frequentemente, significa che definitivamente vale il contrario, è chiaro? quindi ci ho perso 10 minuti a spiegare questa tesi, adesso andiamo a dimostrare, dimostrazione, vi ricordo che b con k è uguale, all'estremo superiore, degli a con n, per n maggiore o uguale di k, qua, allora, il massimo limite, degli a con n, vale l, lambda, se solo se per definizione, facciamo il caso che lambda sia un numero reale, così, la cosa si può fare anche, se lambda è più infinito o meno infinito, però, ovviamente, non possiamo usare in questi epsi, che cosa significa meno infinito o più epsi o più infinito o più epsi, dovremo scrivere in maniera diversa, i concetti sarebbero simili, ma non ci voglio perdere, facciamo solo il caso che lambda sia un numero reale, se solo se il limite dei b con k è uguale a lambda, se solo se, per ogni epsi maggiore di zero, per ogni epsi maggiore di zero, esiste n, tale che, se n è maggiore o uguale di n, implica, anzi, la valenza la metto qua, se k, implica, b con k minore di lambda grande più epsi, e b con k maggiore di lambda grande meno epsi, se vi ricordate, dire che, b con k tende a lambda, significa che, definitivamente, questo vuol dire definitivamente, b con k deve essere compreso da lambda grande più epsi e lambda grande meno epsi, non ho fatto altro che scrivere separatamente, le due disuguaglie, ma adesso mi ricordo, se b con k è minore di lambda grande più epsi, che è b con k, è l'estremo superiore di a con n, ma allora questo, mi dice, che b con ni, è in particolare minore di lambda grande più epsi, se va bene per tutti i k maggiore o uguale di ni, va bene anche per ni, ma allora, questo mi dice, che a con n, è minore di lambda grande più epsi, per ogni n maggiore o uguale di ni, per quale motivo, chi è b con ni? è l'estremo superiore di questo, quindi, lambda più epsi, no? deve essere un maggiorante, di a con n per tutti i n maggiore di ni, che vuol dire, che a con n, è minore di lambda grande più epsi per ogni n maggiore o uguale, che a con n è minore o uguale di b con ni, ora devono schivare, ok? andiamo a vedere questa, di me, quindi, la prima cosa mi dice, mi dice che definitivamente, definitivamente, è vera, è vera, la prima sua, piazza, quindi ho dimostrato, la prima disuguaglianza. La seconda cosa mi dice, mi dice, che, come al solito, qua b con ni, è maggiore di lambda grande meno epsi, questo vuol dire, che l'estremo superiore, degli a con n, tali che n è maggiore o uguale di ni, è più grande, è più grande strettamente, di lambda grande meno epsi, questo che vuol dire, che deve esistere un n maggiore di ni, tale che, a con n deve essere maggiore di lambda grande meno epsi, scusate, la non linealità della implicazione, perché qua sono andato, ho fatto una scrittura bustroferica, sono andato a sista, a destra e poi a destra. Allora, qua ho scritto semplicemente, chi è b con i, che è b con i, l'estremo superiore degli a con n, per n maggiore o uguale di ni. Allora, se questo estremo superiore, è maggiore di lambda grande meno epsi, che vuol dire, che almeno uno di questi elementi, deve essere più grande di lambda grande meno epsi, perché se fossero tutti, minore o uguali di lambda grande meno epsi, lambda grande meno epsi, sarebbe un maggiore di questi insieme, e quindi l'estremo superiore, sarebbe minore o uguale di questi, di lambda grande meno epsi. Quindi vuol dire che almeno uno, deve essere più grande di lambda grande meno epsi. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato la seconda. Ho questa qua, va bene anche se ci metto ca. Per quale motivo uno potrebbe dire, una persona furbo potrebbe dire, no ma questo ni, era quello che tu avevi trovato qua. Ni tu l'avevi scelto in masa epsi, quindi ni era fissato. io l'ho preso dalla successione b con k, che convergeva, quindi ni era fissato. Mentre qui tu mi hai detto che vale per ogni ni. Qua c'era esiste ni, e va bene. Qua c'era per ogni ni. Allora, beh a sto punto lo chiamo i k per ogni k. uno potrebbe dire, ma vale solo per i k più grandi di ni. No, vale pure per i k più piccoli di ni, perché se prendo k più piccolo di ni, io n me lo prendo rispetto a k più grande di ni, che è più grande di k. quindi questa qua, vale per ogni. Ok? Viceversa, se definitivamente valgono queste, e definitivamente vale anche questa. veramente, passando all'estremo superiore, questa qua lo avrebbe con minore uguale. Se frequentemente vale questa, è p con i, se io prendo p con i, p con i chi è l'estremo superiore degli a con n per n maggiore o uguale di ni, siccome uno di questi è più grande, l'anda grande o meno, p con i sarà più grande. Cioè, se vale questo, che il massimo limite vale l'anda, valgono queste due. Se valgono entrambe, valgono entrambe queste disuguagliate, definitivamente, e qui, il limite di chi con k vale l'anda, e qui, il massimo limite di a con n. ok. Quindi, queste sono le proprietà caratteristiche del massimo limite. Andiamo a vedere quali sono le proprietà caratteristiche del minimo limite. le stimo qua. Allora, vediamo se avete capito. anche questi dimostrano analogamente, allora prima, per ogni epsilon, maggiore di zero, esiste un ni, tale che s n è maggiore o uguale di ni, allora, io ci devo mettere? Allora, definitivamente che deve fare la successione? A con n è maggiore di lambda piccolo. A con n deve essere maggiore di lambda piccolo meno x. Quindi, stavolta, per avere che il massimo limite da lambda piccolo, il minimo limite, scusate, va a lambda piccolo, la successione deve essere definitivamente minore di lambda piccolo, meno x. x. Poi, l'altra deve essere, per ogni epsilon maggiore di zero, per ogni ni appartenente a n, esiste n maggiore o uguale di ni, tale che a con n è maggiore di n. Quindi, di adesso possiamo fare un po' il punto della situazione. Che significa avere che il massimo limite vale 5? Che la successione è definitivamente minore di 5 più epsilon e frequentemente maggiore di 5 meno epsilon. fisso epsilon e abbiamo. Che significa avere che il limite vale 5? Che la successione è definitivamente compresa, per ogni epsilon maggiore di zero, la successione è definitivamente compresa tra 5 meno epsilon e 5 più epsilon. E' meglio il limite o meglio il massimo limite? E' meglio il limite se ci sta. Perchè definitivamente tutte e due è meglio di una definitivamente e una frequentemente. Quindi il limite se ci sta con chi coincide? Sia col massimo limite sia col minimo limite. Quindi è ovvio che se una successione converge a L da quello che abbiamo detto sia il massimo limite che il minimo limite valgono L. Allora, se una successione converge a 5 la successione è definitivamente compresa tra 5 meno epsilon e 5 più epsilon. Quindi la successione è definitivamente minore di 5 più epsilon e frequentemente maggiore di 5 meno epsilon. Quindi il massimo limite vale 5. Poi posso anche dire che la successione è definitivamente maggiore di 5 meno epsilon e frequentemente minore di 5 epsilon. Quindi il minimo limite pure vale 5. Quindi è ovvio che se il massimo limite vale 5, se il limite vale 5, sia il massimo limite che il minimo limite valgono tutti e due. E questo vale in generale. Se il limite vale L, il massimo limite e il minimo limite valgono entrambi L. Viceversa, se questi due coincidono, allora io cosa posso dire? Allora mettiamo che sono tutti i due uguali a L. Definitivamente, qua ciò che definitivamente la successione è minore di L più epsilon. Qua ciò che definitivamente la successione è maggiore di L meno epsilon, le metto insieme, definitivamente la successione è compresa da L meno epsilon e L più epsilon. Quindi, le due disuguaglianze, una ce l'ho definitivamente da una parte, l'altra ce l'ho definitivamente dall'altra parte, le metto insieme e mi dicono che è il limite vale 5. Quindi se il massimo limite fa 5, il minimo limite fa 5, il limite fa 5. Dice, ma qua c'è pure quella di frequentamento e non mi frega niente perché se qua mi dice che frequentemente è maggiore di L meno epsilon, ma qua mi dice che definitivamente è maggiore di L meno epsilon, questo è meglio di questo. Quindi, dovessero coincidere queste due, queste due disuguaglianze, queste due, diciamo, condizioni, non mi servono perché le altre due saranno migliori di queste. Ok? Quindi, da quanto detto segue come corollario che scriviamo corollario il limite di A con N quale è appartenente a R se e solo se contemporaneamente il massimo limite di A con N vale L è il minimo limite di A con N. Quindi, dire che è una successione con maggio da L vuol dire che il massimo limite e il minimo limite devono coincidere. come G. Allora, c'è un caso in cui posso, e questo vale sempre, noi l'abbiamo dimostrato nel caso che il limite sia reale, però in realtà quest'ultima equivalenza vale anche se il limite fa più infinito o meno infinito. Allora, vediamo un po' se avete capito. C'è un caso in cui posso conoscere il limite di una successione conoscendo soltanto il massimo limite? Allora, supponiamo il massimo limite fa 3. Posso dire che il limite fa 3? No. Supponiamo che il massimo limite faccia più infinito. Posso dire che il limite fa più infinito? No. Perché no? Meno 1 alla n per n. Meno 1 alla n per n. Il massimo limite fa più infinito e il minimo limite fa meno infinito. Oppure n più meno 1 alla n per n. Il massimo limite fa più infinito e il minimo limite fa zero. Però mettiamo che il massimo limite faccia meno infinito. Quando può fare il minimo limite? Com'è il minimo limite rispetto al massimo limite? Più piccolo. Se il massimo limite fa meno infinito, il minimo limite fa meno infinito pure lui. E quindi? Poi? Quindi il limite fa? Quindi se il massimo limite fa meno infinito, la successione di ragione e ragione. Vediamo con il minimo limite. Quando è che posso scoprire che una successione ha limite conoscendo solo il minimo limite? Quando il minimo limite fa più infinito. Se il minimo limite fa più infinito, la successione diverge così. In altri casi no. Se il minimo limite fa zero, il massimo limite potrebbe fare uno, cinque, più infinito, non lo so. Se il minimo limite fa meno infinito, il massimo limite dovrebbe fare zero, cinque, meno tre, più infinito, non lo so. Ma se il minimo limite fa più infinito, il massimo limite pure lui fa più infinito e la successione diverge. Positivo. Positivo. O. Fare questi altri casi richiederebbe una perdita di tempo che non voglio fare. C'è anche i casi in cui il massimo e il minimo limite. Che noi abbiamo dimostrato queste cose solo quando il massimo e il minimo limite sono reali. Però, in maniera analoga, si può ragionare nel caso di cui non si è reale. Bisogna usare la definizione di successione divergente in quei casi. casi. Va bene. Allora, dobbiamo ancora dimostrare una cosa prima della pausa. Adesso andiamo a vedere. Bene. Bene. Grazie. Allora, il teorema noi il teorema lo dimostriamo se il massimo limite è reale ma vale anche se il massimo limite è più infinito o meno infinito. Allora, supponiamo che il massimo limite abbiamo una successione a con n di numeri reali Allora, supponiamo che il massimo limite di a con n valga lambda appartenente a allora io dico che esiste una successione estratta tale che il limite della successione estratta sia uguale esattamente a questo. Ovviamente, similmente, potrò dimostrare che ce ne sarà un'altra che è convergente al minimo limite. Questo teorema perchè è importante perchè io qua non lo so se la successione è convergente il massimo limite vale 5 e il minimo limite vale 3 pensate alla successione meno 1 alla n il massimo limite vale 1 il minimo limite vale meno 1 c'è un'estratta che va a 1 un'altra estratta che va a meno 1 ma non c'è un'estratta che va a 0 cioè vale... per il massimo limite il minimo limite questo teorema vale per tutti i punti in mezzo non lo sappiamo se invece prendete per esempio la successione seno di n la successione seno di n è compresa sempre da meno 1 e 1 lì si può dimostrare che c'è un'estratta che converge a lambda però non è lambda compresa da meno 1 e 1 quindi seno di n c'è un'estratta che converge a 1 un'estratta che converge a meno 1 un'estratta che converge a radica a 2 mezzi un'estratta che converge a 0 ce ne stanno tanti gli estratti e ognuna può convergere a un valore però là bisogna fare un esercizio di un'estratta però, ce ne deve stare sempre una che converge al massimo limite e ovviamente ce ne sarà un'altra che converge al minimo limite dimostrazione ah io comincio a vedere prendo epsilon uguale a 1 allora trovo esiste di con 1 tale che per ogni n maggiore o uguale di di con 1 a con n è minore di lambda più esiste esiste n maggiore o uguale di di con 2 eh tale che a con n è maggiore di lambda grano n e con 1 allora questo lo chiamo n 1 quindi questo lo chiamo n 1 a n 1 allora questo che cosa mi dice? che a n 1 siccome n 1 è maggiore o uguale di di con 1 deve valere sia questa di sotto che questa di sotto quindi posso dire che a n 1 è compreso tra lambda meno 1 e lambda più 1 o no? ok adesso prendiamo invece di dire epsilon uguale a 1 prendiamo epsilon uguale a 1 ma io so che esiste n con 2 eh tale che per ogni n maggiore o uguale di n con 2 eh a con n è minore di lambda più 1 ma io so che esiste n 2 maggiore o uguale di che cosa? se ci metto n con 2 eh non va bene vabbè proviamo a mettere maggiore o uguale di di con 2 a con n è maggiore di lambda meno 1 quindi io ottengo a n 2 maggiore di lambda meno 1 e minore di lambda più 1 1 mezzo allora vorrei proseguire così e dire chi sarà la successione strata a n 1, a n 2, a n 3 eh però c'è un problema qual è il problema? che nella successione strata gli indici come devono essere? crescenti quindi n 2 deve essere maggiore di n 1 e io non lo so perché non lo so se n con 2 è maggiore di n con 2 ma lo ho qua devo mettere maggiore o uguale del massimo anzi maggiore stretto del massimo tra n con 2 e n 1 perché lo posso fare se vi ricordate la seconda condizione valeva per ogni n 1 io qua ci posso mettere qualunque n mi pare allora chi ci voglio mettere? non n con 2 ci metto il massimo tra n con 2 e n 1 e qua voglio maggiore stretto ma maggiore stretto qua là c'è il maggiore uguale beh ci metto il massimo tra questo e questo e poi c'è giù buio facciamo là un maggiore uguale che corrisponde a questo maggiore stretto allora vado avanti così adesso cosa prendo? prendo epsilon uguale a un terzo allora ci sarà un n con 3 tale che per ogni n maggiore uguale a un n con 3 a con n è minore di lambda più un terzo poi prendo esiste n 3 maggiore di chi? del massimo tra n con 3 e chi? ed n 2 tale che a con n è maggiore di lambda meno un terzo adesso avrò a n 3 sarà compreso tra lambda meno un terzo e lambda più un terzo beh questo sì per costruzione io so che esiste questo qua a n 3 maggiore di lambda meno questo sì perché n 3 è maggiore di n con 3 e quindi vale anche quella di sopra ma poi so anche che n 3 è più grande di n 2 e quindi che cosa so so che proseguendo in questo modo per induzione adesso a n j so che è una sottosuccessione di a con n perché è una sottosuccessione perché gli n j sono strettamente credo 100 adesso che succede agli a n j beh basta guardare qua a n j lo scrivo qua a è compreso tra lambda meno 1 su j e lambda più 1 su j perché a n 1 era compreso tra lambda meno 1 e lambda più a n 2 è compreso tra lambda meno un mezzo e lambda più un mezzo proseguendo in questo modo a n j è compreso tra lambda meno 1 su j e lambda più 1 su j quando j è da infinito che succede? nel termine del confronto in due carabinieri questo è da n questo è dall'altro limiti a quanti c'è qua? è chiaro? quindi non è difficile ok quindi fa questa segue questa e c'è l'altra quindi è sempre possibile estrarre una sottosuccessione che converge a un massimo limite le altre sottosuccessioni a che cosa possono convergere? a qualcosa compreso tra il massimo limite e il minimo limite quindi questo qua il massimo limite effettivamente è il massimo dei limiti delle successioni estrati non può mai convergere una sottosuccessione a un numero più grande del massimo limite non può perché quando passo alla sottosuccessione convergente il massimo limite scende il minimo limite di sale ecco allora si trova una sottosuccessione in cui il limite è uguale al massimo limite più di quello non può fare se il massimo limite faceva 7 il limite più di 7 non può fare si devono avvicinare entrambe a coincidere in uno dei due casi in almeno un caso il limite farà esattamente il massimo limite allo stesso modo usando le proprietà caratteristiche del minimo limite potete provare che esiste un'altra sottosuccessione che converge al minimo limite quindi per esempio la successione meno 1 alla n massimo limite vale 1 minimo limite vale meno 1 ci deve stare per forza un'estratta che converge a 1 un'estratta che converge a meno e infatti quella con gli indici pari converge a 1 e quella con gli indici disperi converge a 2 chiaro? se una successione è a massimo limite 5 il minimo limite è 3 ci sarà un'estratta che converge a 5 un'estratta che converge a 3 tutte le estratte convergenti convergeranno a qualcosa compreso tra 3 e 5 è chiaro sto discorso non è detto che le estratte non esse per forza convergenti se il massimo limite è di valore 5 il minimo limite è di valore 3 se prendo un'estratta magari l'estratta c'avrà ancora massimo limite 5 il minimo limite è di valore 3 non è detto che debbano convergere ma se il convergono devono convergere c'è qualcosa con questo tra l'uno e l'altro ok pausa